bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti sono elisa true crime e anche oggi mi siedo qui con voi e vi racconto una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine del mio canale e dei miei video è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie nel caso di oggi ci troviamo in svezia e parleremo del caso di una ragazza di 17 anni di nome lisa olm vi avviso che nel video di oggi parleremo di violenza sessuale quindi se questo è un argomento troppo delicato per qualcuno di voi tornate al prossimo video io non mi offendo prendetevi cura di voi prima di cominciare però voglio ringraziare lo sponsor del video di oggi che supporta il mio lavoro e il mio canale ormai da molto tempo ovvero il mio amatissimo surf shark vpn chi mi segue da tempo sa già che surf shark è il mio migliore amico durante tutte le ricerche che faccio per i miei casi ma fatemi spiegare meglio per chi non lo sapesse un vpn sarebbe una rete privata virtuale che tra le cose ti consente di accedere a qualsiasi contenuto online cercando spesso su siti americani non avete idea di quanti io ne trovi bloccati tantissimi siti di notizie americani infatti non sono accessibili per chi si trova in europa oppure sarà capitato anche a voi di voler guardare un contenuto online su youtube per esempio che però non era disponibile nel tuo paese ecco in tutti questi casi basta cambiare il paese nel vostro vpn mettere che ne so america germania o quello che volete e voilà avete tutti i contenuti del paese che avete scelto a vostra disposizione ma un vpn soprattutto ti protegge perché nasconde la tua navigazione nasconde il tuo indirizzo ip protegge la tua identità online e protegge i tuoi dati soprattutto quando si usano i wifi pubblici che sono molto pericolosi e navigare in sicurezza vi costerà veramente pochissimo amici perché utilizzando il mio codice promo elisa avrete non solo l'83 per cento di sconto ma anche ben quattro mesi gratis per provarlo come sempre trovate il link qua sotto in descrizione prego non c'è di che e adesso amici cominciamo con il caso di oggi dunque lisa holm è appunto una ragazza di 17 anni nata a scovde la cui pronuncia non è questa ma è tipo scovde vabbè insomma che sarebbe una piccola cittadina della svezia ma nell'estate del 2015 lisa passa la maggior parte delle sue giornate in un'altra cittadina un borgo di nome bloomberg la cui pronuncia sembrava tanto semplice ma in realtà sarebbe tipo bloomberg a circa 45 minuti di distanza dalla sua città natale che ho tentato di pronunciare prima lì lisa lavora in un bar una caffetteria e ci lavora a tempo pieno spesso rimanendo fino alla chiusura ovvero alle 6 di sera alle 18 alle 18 e 23 del 7 giugno del 2015 lisa manda un messaggio a suo papà per avvertirlo del fatto che il suo turno di lavoro era appena finito e che sarebbe tornata a casa a breve dovete sapere che ogni sera alla chiusura era abitudine del padre andarla a prendere quello era il primo e unico giorno in cui lisa sarebbe dovuta tornare a casa da sola perché quel giorno suo padre non poteva andare a prenderla insomma lisa si spostava con un motorino ma dopo un po di tempo non vedendola tornare a casa suo padre inizia a preoccuparsi decide quindi di salire in macchina e di guidare fino al bar per vedere se fosse ancora lì convinto che fosse ancora lì in realtà che si fosse trattenuta al bar magari a parlare con una collega ma non era così anzi il padre di lisa trova il suo motorino nel parcheggio del bar con le chiavi ancora inserite immediatamente avverte la proprietaria del bar le dice che sua figlia era scomparsa qualcosa doveva esserle successo i due allora insieme iniziano a cercarla lì nei dintorni ma senza nessun successo alle 21 e 47 il padre di lisa telefona alle autorità quindi per denunciare la sua scomparsa le autorità si mettono immediatamente in moto e lanciano subito una squadra di ricerca allarmati soprattutto dal dettaglio delle chiavi lasciate nel blocchetto d'accensione del motorino sospettavano infatti che lisa potesse essere stata rapita ma le ricerche non portano a molto dall'altra parte del bar in cui lavorava lisa si trovava una specie di fienile un fienile che le autorità perquisiscono per primo la sera stessa che lisa sparisce ma senza trovare nulla eppure il giorno dopo qualcuno porta alla polizia un guanto che era stato trovato proprio nei pressi di quello stesso fienile a quanto pare delle persone che lavoravano nei campi lì nei pressi di questo fienile che la polizia aveva perquisito solo il giorno prima avevano trovato questo guanto e avevano deciso di portarlo alle autorità anche perché a questo punto la notizia che lisa fosse scomparsa era già stata divulgata su tutti i telegiornali e hanno quindi pensato che quel guanto potesse essere una prova e infatti lo era quel guanto era uno dei due guanti che lisa usava per guidare il suo motorino quindi una prova molto importante che però era stata contaminata perché prima di arrivare alle autorità era passata per un sacco di mani le ricerche comunque proseguono anzi si intensificano e due giorni dopo il 9 giugno trovano qualcos'altro a circa un chilometro dal bar trovano per terra il cellulare di lisa completamente rotto trovano anche la cover insieme anche a degli scontrini vari e trovano anche la patente di guida di lisa e le sue chiavi di casa per questo motivo le autorità decidono di continuare a concentrare le ricerche in quell'area in un raggio di massimo 300 metri da quell'area perché era chiaro che lisa fosse stata rapita proprio lì e secondo le autorità non era stata portata molto lontano a questo punto a cercare lisa c'erano molte persone oltre alla squadra di ricerca messa insieme dalle autorità c'erano anche dei volontari e un'organizzazione no profit di nome missing people la cui missione era appunto aiutare a trovare persone scomparse nel nulla all'inizio le autorità non sapevano se autorizzare o meno questa organizzazione per paura che avere troppe persone nella squadra di ricerca persone che non erano addestrate insomma che non facevano parte delle autorità potesse in qualche modo compromettere le indagini o inquinare le prove come era successo col guanto ma dopo giorni e giorni senza riuscire a trovare lisa e senza far nessun passo avanti nelle indagini le autorità si convincono del fatto che avevano bisogno di tutto l'aiuto possibile e infatti sarà proprio uno dei volontari di questa organizzazione a trovare le prove successive il pomeriggio dell'11 giugno uno dei membri dell'organizzazione missing people incappa su una potenziale prova si trovava su una strada sterrata molto vicina a dove avevano trovato il cellulare di lisa quando ad un certo punto per terra scorge un anello e il cinturino di un orologio che a quanto pare appartenevano a lisa le autorità però decidono di non rilasciare dichiarazioni su queste prove che erano state trovate quando i media chiedono chiarimenti infatti uno degli agenti dice pubblicamente che non avevano intenzione di rilasciare dettagli ma confermano il fatto che si trattava di oggetti personali appartenuti alla ragazza a lisa il portavoce delle autorità comunque aggiunge che erano state recuperate anche altre prove e che al momento le stavano analizzando cercando di capire se avessero un collegamento diretto con la sparizione di lisa oppure no cioè se fossero degli indizi per capire dove potesse trovarsi la ragazza oppure no tutti questi oggetti appartenenti a lisa comunque erano stati trovati in mezzo a dei grossi campi che portavano ad un'autostrada le ricerche continuano meticolose lungo quei campi con l'aiuto anche dei cani molecolari perlustravano ogni angolo ogni fosso ogni cespuglio nell'eventualità che lisa o il suo corpo fosse stato abbandonato in uno di esso e dico il suo corpo perché a questo punto erano passati giorni senza avere sue notizie quindi si prende seriamente in considerazione la possibilità che lisa potesse essere morta la sua scomparsa comunque scuote l'intera nazione le persone sono spaventate seguono il caso giorno per giorno seguendo ogni minimo aggiornamento e sperando che lisa potesse essere ritrovata sana e salva la scomparsa di lisa diventa uno dei casi più importanti del paese l'attenzione dei media è al massimo penso si possa paragonare al nostro caso di iara gambirasio in italia infine il 12 giugno avviene la svolta nel caso alcuni dei volontari dell'organizzazione missing people decidono di cercare lisa in una fattoria che si chiamava martorp sicuramente non si pronuncia così una fattoria situata ad un paio di chilometri dal bar in cui lisa lavorava ma durante le ricerche succede qualcosa di strano mentre questi volontari perlustravano la zona all'improvviso erano sbucati due ragazzi due uomini in macchina che gli avevano urlato di andarsene perché avevano già perlustrato quella zona ma ai volontari non risultava che qualcuno avesse già cercato lì di conseguenza avvertono le autorità comunicandogli la strana interazione che avevano avuto con queste due persone nella fattoria e continuano a perlustrare l'area ignorando completamente quello che questi due gli avevano detto e così facendo un paio d'ore dopo poco lontano da lì trovano infatti un casco e una giacca che vengono identificati proprio come il casco che usava per andare sul motorino e la sua giacca e purtroppo amici quella stessa notte viene trovato anche il suo corpo il corpo senza vita di lisa holm viene trovato in un piccolo capanno capanno per gli attrezzi che faceva parte di quella fattoria di cui abbiamo parlato prima ed era purtroppo stata infilata a forza in un piccolissimo armadietto aveva del nastro adesivo arrotolato intorno alla testa che le copriva sia il naso che la bocca ed era anche stata legata con dello spago la notizia della sua morte chiaramente devassa la nazione sconvolge tutte quelle persone che stavano seguendo il caso col fiato sospeso tutte quelle persone che ogni notte pregavano che lisa tornasse a casa sana e salva viene organizzata una veglia fuori dal bar in cui lisa lavorava a cui partecipano centinaia di persone che lasciano anche fiori e messaggi per esprimere il loro dolore e la loro vicinanza alla famiglia di lisa la notizia della scoperta del suo corpo viene diffusa e divulgata in tutti i telegiornali in tutti i programmi tv spesso proprio esagerando o mettendo enfasi sul modo orribile in cui avevano trovato il suo corpo proprio per un po strumentalizzare la cosa e per fare notizia ma i media divulgano anche un'altra notizia sconvolgente ovvero che la polizia avesse già dei sospettati e che li avesse già anche arrestati e in questo effettivamente i media avevano ragione perché la mattina del 13 giugno solo dopo poche ore dalla scoperta del corpo di lisa le autorità avevano effettivamente arrestato tre persone si trattava di due uomini e di una donna e i due uomini erano proprio quei due che a bordo dell'auto avevano detto ai volontari di andare via dalla loro proprietà questi due uomini insieme alla donna vivevano nella fattoria proprio a fianco al capanno in cui era stato trovato il corpo di lisa e all'inizio le autorità tentano di smentire la cosa dicendo che la notizia era una bufala che non avevano arrestato nessuno che non era vero ma le voci continuano a diffondersi addirittura voci che i tre fossero non solo dei sospettati ma che fossero effettivamente coinvolti nella scomparsa e nella morte di lisa e il 16 giugno si ha la conferma di tutte queste speculazioni viene dichiarato ufficialmente che i due uomini erano stati arrestati per il sospetto dell'uccisione di lisa mentre invece la donna era stata arrestata per favoreggiamento queste tre persone erano di nazionalità lituana i due uomini erano fratelli e la donna era la moglie di uno dei due la donna era stata accusata di favoreggiamento appunto ma qualche giorno dopo il suo arresto il 23 giugno viene rilasciata perché a quanto pare non c'erano abbastanza prove contro di lei i due fratelli invece rimangono dietro le sbarre e a questo punto i nomi dei sospettati non erano ancora stati rilasciati al pubblico si sapeva soltanto che uno dei due fratelli era più giovane e l'altro era più grande e che uno dei due doveva avere effettivamente ucciso lisa mentre l'altro era stato un complice insomma l'aveva aiutato in qualche modo ma non si sapeva nulla di più le indagini sulla morte di lisa proseguono e a questo punto amici succede qualcosa di davvero molto inquietante qualcosa che rende questo caso curioso perché appare su youtube un video che improvvisamente diventa virale e capirete presto perché il titolo del video era 13 solo il numero 13 e il canale che lo aveva pubblicato si chiamava lisa olm lisa olm proprio come la 17enne che era appena stata trovata morta il video era stato pubblicato il 24 maggio del 2015 quindi esattamente due settimane prima dalla scomparsa di lisa e il video mostrava solamente un conto alla rovescia di un minuto anche se il video dura solo 11 secondi quando il video inizia il conto alla rovescia segna 1.01 e quando finisce segna 50 secondi quindi dura esattamente 11 secondi ma nonostante io abbia già i brividi amici non è questa la parte inquietante il punto è che il corpo di lisa era stato trovato esattamente 13 giorni dopo la sua scomparsa il video in questione è l'unico presente sul canale e non si è mai capito perché il proprietario del canale abbia postato questo video né che cosa significhi chiaramente nel momento in cui il video è diventato virale la gente online è impazzita e ha iniziato a fare teorie su teorie come per esempio che fosse stato il killer di lisa a postare quel video o che fosse stata proprio lisa stessa a postarlo il canale aveva il suo nome per non so mandare un criptico messaggio a qualcuno chiedendo aiuto ora il nome lisa holm è un nome abbastanza comune in svezia quindi potrebbe anche trattarsi di una coincidenza potrebbe anche solo essere una persona di nome lisa holm che per qualche motivo aveva deciso di postare quel video senza senso ma la gente sosteneva che ci fossero un po troppe coincidenze il nome il periodo in cui lo aveva pubblicato e il numero 13 cioè che fossero proprio 13 i giorni da quando lisa era scomparsa a quando l'avevano trovata come se quel video fosse un conto alla rovescia simbolico della sua vita le autorità però dichiarano in seguito che il video non aveva nulla a che fare col caso pare che il canale in questione avesse un altro nome in principio pare che il proprietario del canale gli abbia cambiato il nome mettendo lisa holm solo dopo la scomparsa della ragazza solo dopo che il caso era diventato popolare e pare anche che abbia cambiato anche il titolo del video mettendo il numero 13 entrambe cose che io confermo su youtube si possono fare in qualsiasi momento quindi secondo le autorità la persona dietro al canale era solo qualcuno che per puro divertimento non ho idea aveva cambiato tutte queste cose nella speranza di attirare l'attenzione riuscendoci perché il video in questione ad oggi ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni e il canale conta più di 7000 iscritti e se guardate i commenti di questo video vedrete che c'è gente da qualsiasi parte del mondo ci sono una cosa come 10.000 commenti ora c'è un altro video su questo caso su youtube che io ho guardato intendo un video come questo che lo racconta e lo youtuber in questione sostiene che tra i primi commenti sotto a questo video quindi prima che il corpo di lisa venisse trovato il proprietario del canale aveva pubblicato come commento un link con una mappa e sulla mappa c'era segnato un punto c'era tipo una x su un luogo che si è poi rivelato essere proprio il luogo in cui hanno trovato il corpo di lisa o comunque lì vicino ora amici i commenti saranno come ho detto circa 9.000 10.000 ma io mi sono presa la briga di scorrerli tutti fino alla fine per arrivare ai commenti più vecchi solo per questo mi ci sono voluti tipo due giorni ma vi dico io questo commento con questo link con questa mappa non l'ho trovato non so se sia stato cancellato o cosa ma onestamente quel video in cui ho sentito questa informazione è stato l'unico in cui ho sentito questa notizia sinceramente non ho trovato questa informazione da nessun'altra parte e onestamente ma questo è un mio pensiero penso che se davvero questa persona avesse pubblicato il luogo in cui poi è stato ritrovato il corpo di lisa le autorità lo avrebbero insomma l'avrebbero saputo e dubito che avrebbero ignorato la cosa ecco quindi non sono certa della veridicità di questa informazione comunque il video non viene mai incluso nell'investigazione ufficiale ma nonostante questo ho voluto comunque parlarvene perché ammetto che si tratta di una cosa davvero inquietante che mi ha fatto venire i brividi il 23 giugno i media dichiarano che il giudice della corte d'appello aveva decretato che in base alle prove che le autorità gli avevano presentato era chiaro che i due fratelli avessero un movente per togliere la vita a lisa e di conseguenza sarebbero entrambi rimasti in prigione l'avvocato del fratello più grande però non è molto d'accordo con questa decisione e rilascia una dichiarazione ai media dicendo che le prove contro il suo cliente di cui a questo punto ancora non si sapeva il nome erano troppo deboli e erano troppo vaghe per incriminarlo di conseguenza era sicuro che sarebbe riuscito a farlo scarcerare in pochissimo tempo gli avvocati dell'accusa non erano però dello stesso parere rilasciano una dichiarazione dicendo l'esatto contrario ovvero che le prove presentate contro i due fratelli specialmente contro quello più grande erano solide abbastanza per dimostrare che fosse lui il responsabile della morte di lisa intanto mentre i procedimenti legali contro i possibili responsabili si svolgevano il 7 luglio del 2015 si tiene il funerale di lisa in una piccola chiesa subito fuori da kovde la sua città natale al suo funerale si presentano centinaia di persone la maggior parte delle quali sono state costrette ad aspettare fuori perché la chiesa era troppo piccola e non c'entravano tutti la famiglia di lisa durante il rito funebre legge una lettera che avevano scritto per lisa nella lettera c'era scritto tra le cose anche queste parole ci ricordiamo tutti di lisa lisa piaceva a tutti a chiunque la incontrasse aveva l'abilità di incantare chiunque quando si sentiva al sicuro nell'ambiente e con le persone che la circondavano offriva volentieri il suo senso dell'umorismo e le sue battute sottili e solo un paio di settimane dopo il funerale di lisa le autorità annunciano che il dna ottenuto da uno dei due fratelli combaciava con quello prelevato dai vestiti di lisa e come avrete capito amici questa investigazione è avvenuta praticamente a porte chiuse nel senso le autorità svedesi sono molto restie nel condividere i progressi dell'investigazione con i media e di conseguenza con il pubblico a differenza dei casi americani in cui invece trovo sia tutto molto più sotto gli occhi di tutti non so come dire solitamente nei casi americani ogni piccolo aggiornamento viene immediatamente condiviso col pubblico invece in questo caso ho fatto molta fatica a seguire le indagini proprio perché vabbè un po per la lingua ovviamente ma un po per questo motivo qua molte cose sono state tenute segrete fino all'ultimo e molte non sono neanche mai state rivelate al pubblico il 26 agosto del 2015 viene rivelato un altro pezzettino di informazione al pubblico ovvero che il fratello più grande aveva 35 anni e che suo fratello minore era stato rilasciato sempre per mancanza di prove contro di lui quindi a questo punto sia la moglie dell'uomo del fratello maggiore sia il fratello minore erano in libertà all'inizio di settembre i media riportano qualche notizia in più sugli sviluppi delle indagini ovvero che il dna trovato sulla scena sarebbe ovviamente stato usato contro l'uomo 35enne in aula al suo processo e viene divulgata anche la notizia che la donna e il fratello minore dell'uomo erano praticamente scappati diciamo in lituania dopo il loro rilascio nel loro paese d'origine a questo punto il caso era diventato famosissimo sia in svezia sia in lituania ovviamente e a quanto pare in lituania in media non sono così riservati come in svezia i lituani infatti le facce e i nomi dei tre sospettati vengono spiattellati ovunque non si parlava d'altro e i due infatti hanno avuto molte difficoltà non riuscivano a vivere una vita normale e anche se nel loro paese in realtà la maggior parte delle persone credevano alla loro innocenza a differenza della gente in svezia che era convinta della loro complicità nel delitto e finalmente amici il 23 ottobre del 2015 quattro mesi dopo la morte di lisa vengono rilasciate diciamo tutte le informazioni sul sospettato e sul delitto in generale prima di tutto il nome del sospettato dell'uomo di 35 anni è un nome che io mai più riuscirò a pronunciare ovvero nerius bilevicius vabbè comunque secondo google la pronuncia esatta del nome è nerius quindi continuerò a chiamarlo così sperando che sia corretto nerius era appunto originario della lituania e si era trasferito in svezia anni prima appunto con suo fratello minore e con sua moglie i documenti ufficiali i documenti del tribunale attestano che il movente di quel delitto era stato un movente sessuale nonostante nerius continuasse a mantenere la sua innocenza degli esperti in crimini sessuali hanno comunque dichiarato che non c'era nessun altro movente l'uomo aveva rapito lisa solamente per approfittare di lei infatti alcune tracce di dna trovato sui vestiti di lisa erano tracce di liquido seminale oltre che tracce di sangue che combaciavano con nerius secondo gli esperti e secondo gli avvocati dell'accusa le cose erano andate così nerius aveva parcheggiato la sua macchina vicino al bar in cui lavorava lisa probabilmente la teneva d'occhio già da un po e quella sera aveva visto la ragazza da sola in procinto di salire sul suo motorino per tornare a casa aveva allora deciso di prenderla e di portarla in quel fienile dall'altra parte della strada proprio per approfittare di lei per farle violenza l'aveva quindi legata con delle corde per soddisfare qualche sua perversa fantasia ma così facendo l'aveva uccisa l'aveva uccisa strangolandola con una delle corde anzi letteralmente impiccandola perché aveva legato queste queste corde ad una tubatura sul soffitto quindi lisa era sospesa e onestamente non è chiaro se la morte di lisa sia stata accidentale tra virgolette nel senso non so se l'obiettivo di nerius fosse quello di uccidere lisa o se si sia trattato di un errore nel suo modo di legarla con quelle funi durante le indagini avevano sequestrato il computer di nerius e all'interno ci avevano trovato parecchio materiale pornografico ed erano tutti contenuti estremamente violenti quindi l'accusa sosteneva che l'intenzione di nerius fosse quella di prendere lisa e ricostruire con lei i video perversi che si guardava sul computer sul corpo di lisa però non erano stati trovati segni effettivi di violenza sessuale era stato trovato però come abbiamo visto prima il liquido seminale sui suoi vestiti e questo perché secondo l'accusa nerius aveva provato così tanto piacere nel vedere lisa soffrire che non era neanche riuscito a farle violenza aveva finito per masturbarsi guardandola mentre lei moriva lentamente successivamente nerius aveva preso il corpo di lisa e lo aveva trasportato fino al capanno degli attrezzi e lì lo aveva infilato dentro quell'armadietto e poi le autorità lo avevano trovato ma come dicevo nerius continuava a sostenere la propria innocenza e quando l'accusa gli chiede non ti rendi conto di quanto tutto questo sia difficile per la famiglia di lisa perché non rispondi sinceramente alle domande per il loro bene lui aveva risposto io sto soffrendo insieme a loro perché sono anche io un padre a mia volta nerius sosteneva di trovarsi a casa insieme a sua moglie la notte in cui lisa era stata uccisa quello era il suo alibi quando l'accusa gli chiede come spiegava quindi la presenza del suo dna sui vestiti della vittima e sulla corda con lui risponde non lo so non sono un esperto ci ho pensato a lungo ma non ho nessuna spiegazione sua moglie testimonia in suo favore a distanza però perché vi ricordate si trovava in lituania quindi testimonia in videochiamata confermando il suo alibi il fatto che nerius fosse insieme a lei la sera in cui lisa era scomparsa testimonianza che però non so quanto possa essere ritenuta attendibile dato che in principio la moglie era stata accusata o sospettata di favoreggiamento comunque il 3 novembre del 2015 dopo soli cinque giorni il processo di nerius si conclude e due settimane dopo il 17 novembre la corte emana la sentenza nerius viene condannato a passare il resto della sua vita in prigione ma dopo pochi giorni dalla sentenza l'avvocato di nerius fa ricorso e per questo amici ricomincia un secondo processo ricomincia tutto da capo da quello che ho capito amici in svezia si può fare appello e si può richiedere un nuovo processo anche se le prove anche se le prove disponibili insomma sono le stesse del primo processo cioè se ho capito bene ci si basa sul primo processo e sulle prove portate al primo processo e si analizzano meglio alcuni aspetti che magari non non si sono analizzati nel primo processo e magari si chiamano a testimoniare persone diverse che magari non erano state chiamate la volta precedente e così via per esempio invece in america e anche in italia se non sbaglio così se non ci sono degli sviluppi nelle indagini se non ci sono nuove prove che potrebbero effettivamente cambiare l'esito del processo da quello che so l'appello viene rifiutato che poi anche senso perché se tutto è uguale perché fare un processo due volte comunque questo secondo processo dura molto di più rispetto al primo ma alla fine la sentenza è la stessa per nerius l'ergastolo ma nerius continua a mantenere la sua innocenza e il suo avvocato tenta anche di appellarsi di nuovo ma la corte suprema rifiuta perché già nel secondo processo non era emerso nulla di nuovo rispetto al primo quindi figuriamoci in un terzo nel luglio del 2016 viene annunciato che nerius sarebbe stato trasferito dalla prigione svedese in cui si trovava ad un'altra prigione nel suo paese d'origine quindi viene estradato in lituania luogo in cui una volta estradato gli sarebbe stata ridotta la pena a 15 anni le autorità svedesi immediatamente decidono di appellarsi minacciando di interrompere il suo trasferimento a seguito di ciò la corte lituana cambia idea e ristabilisce la sentenza originale di nerius ovvero l'ergastolo a quanto pare nerius comunque era ben contento di tornare nel suo paese d'origine il suo avvocato invece un po' meno sosteneva che il suo cliente avrebbe avuto molte più possibilità di essere rilasciato in anticipo in svezia perché in lituania l'unico modo per ricevere uno sconto sulla pena è ricevendo tipo la grazia da parte del presidente o dal parlamento che ha il potere di convertire una sentenza a vita in una sentenza fissa di un tot di anni e basta anche se come potete immaginare questa cosa succede molto ma molto raramente ma nonostante l'opinione del suo avvocato nerius nell'agosto del 2017 viene comunque estradato in lituania e con nerius dietro le sbarre per il resto della sua vita il caso di lisa holm si poteva finalmente chiudere ma amici la storia non finisce qui dopo l'estradizione di nerius per un po' non si sente più parlare di lui né del caso questo però fino ad agosto del 2022 quindi proprio questo mese amici questa è una notizia freschissima perché il 4 agosto 2022 i media svedesi rilasciano una notizia bomba nerius è morto ucciso in prigione da un altro detenuto a quanto pare nerius stava lavorando in un campo nella prigione in cui era e a causa di una lite pregressa con uno dei detenuti quest'ultimo aveva costruito un'arma usando un oggetto molto appuntito e poi aveva aggredito nerius pugnalandolo ripetutamente e uccidendolo nerius era stato portato d'urgenza all'ospedale ma era morto prima di arrivarci e in seguito alla sua morte sua moglie che a quel punto era diventata la sua ex moglie ha parlato pubblicamente incolpando la svezia della morte del suo ex marito dicendo che se non lo avessero condannato all'ergastolo a quest'ora nerius sarebbe ancora vivo ironico come anche i genitori di lisa potrebbero dire la stessa cosa no se nerius non l'avesse brutalmente uccisa solo per soddisfare un prurito che aveva quella sera a quest'ora la loro figlia sarebbe ancora viva le autorità lituane hanno indagato sulla morte di nerius e hanno identificato il detenuto responsabile del delitto ma pare che l'uomo stesse già scontando un ergastolo quindi credo non abbiano fatto nulla dato che avrebbe comunque passato il resto della sua vita in prigione questi amici sono tutte le informazioni che avevo su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già lasciatemi come al solito un commento e anche oggi io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao